In questa parte parlerò del ruolo che hanno gli intermediari nel processo di fattura elettronica. Nello specifico parlerò dei software gestionali che sempre più gli avvocati stanno conoscendo e apprezzando all'interno degli studi legali. In grandi linee i vantaggi dei gestionali rendono semplice ciò che per noi è difficile. Apportano risparmio di tempi, di risorse e di costi. Il loro costo poi è deducibile al 100% quanto ormai parte integrante dell'attività professionale, anche in tema di fattura elettronica e di processo telematico. Una volta inseriti i dati a cura dell'avvocato e della segretaria, il software gestionale elaborerà l'XML, effettuerà i calcoli in automatico e il controllo preventivo dei valori inseriti. Trasmetterà allo SD il documento pronto. Apporrà per conto del mittente la firma digitale tramite sistemi di firma remota e massiva per garantire l'autenticità, la paternità e l'immodificabilità del documento. monitorerà le notifiche del sistema di interscambio, curerà la conservazione digitale a norma secondo il CAD, tutto in un semplice clic. Alla fine fa così paura la fattura elettronica? Ora c'è la parola a Marco Pennacchini dall'altra parte del monitor che ci farà vedere in pratica la soluzione pensata per gli avvocati tecnologici. Vi presentiamo Netlex fattura elettronica. Ritornerò poi con i saluti finali.